Per Radiofonica.com siamo in compagnia di Andrea Paciotto, il regista di L'esame, un testo liberamente tratto da The Test di Richard Matheson. Ora, io ti chiedo, perché rappresentare proprio adesso un testo di questo tipo? Può essere detto fantascienza sociale, ma forse tanto fantascienza non è. Beh, diciamo, quando Matheson l'ha scritto era fantascienza perché erano gli anni 60 e lui ha immaginato una società nel 2020. Ora ci mancano otto anni e perciò il tema diventa molto sensibile perché parla di noi. E allora, sì, in realtà non è più fantascienza, però è un futuro prossimo, molto prossimo. Purtroppo sì, quello che emerge da questo spettacolo è proprio l'idea che in realtà tanto fantascientifico non sia. Nel testo si parla della vecchiaia come se fosse un male, però in realtà ad oggi sono tante le cose che possono essere viste come un male. Basta pensare alle politiche sull'immigrazione o, che ne so, alle persone che stanno ai margini della società. E allora non è tanto lontano poter pensare che delle persone possano veramente pensare che la soluzione sia l'eliminazione di queste persone che semplicemente stanno ai margini. Beh, diciamo nella storia passata questo è avvenuto anche in Occidente. Ci sono in realtà, insomma, anche storie antiche della tradizione greca, ma anche società probabilmente tribali che hanno dei riti o delle abitudini per cui le persone non abili vengono eliminate o escluse. Diciamo, è una realtà. Certamente noi abbiamo cercato di confrontarci con questo tema perché poi l'idea nasce da Giampiero Frondini che interpreta il personaggio principale e che avendo lui un'età molto simile a quella del personaggio c'è un'identificazione molto significativa. E per noi è stato un modo di porci la domanda, di affrontarlo, di retrospettivamente guardare noi stessi e perché riguarda noi e sicuramente fa riflettere. Un'altra cosa, ma ascoltando lo spettacolo mi sono accorta, anche Sabrina, ci siamo accorti che usate tantissimi termini umbri e questo è molto particolare, è una scelta voluta quindi? Beh, diciamo che in un certo senso sarebbe stato impossibile cercare di immaginarci di essere in un luogo completamente diverso da quello che siamo. Volevamo che lo spettacolo parlasse di noi e perciò in qualche modo che fossimo noi a farlo, perciò con i nostri corpi, con la nostra voce, con la nostra inflessione è così, così è Giampiero, così sono gli attori. Infatti mantengono anche il nome? Esatto, mantengono anche il nome, infatti i personaggi si chiamano come lettori. Siamo in compagnia dei protagonisti di L'Esame che in questo spettacolo interpretano se stessi, Francesco Bolo Rossini, Caterina Fiocchetti e Giampiero Frondini. Allora, anzitutto perché farlo adesso? Perché scegliere proprio questo spettacolo, questo tema? Perché è un momento in cui non tutti gli spettacoli vengono adoperati per stimolare situazioni che accadono. Io vengo da tanto lontano dove si faceva il teatro per portare avanti dei discorsi e delle cose. Penso che questo qui è un discorso molto interessante che serve anche a noi anziani per andare via più tranquilli. E ai giovani perché capiscano che si va avanti, se ci sono delle spinte dietro si va ancora più avanti, se non che si rincomincia ogni volta da capo. Questo qui è il discorso. Qual è il messaggio che secondo voi è quello principale? Attraverso questo spettacolo volete comunicare alle persone che sono nel pubblico, che tra l'altro, devo dire, era un pubblico molto variegato, persone di una certa età, ma anche molti giovani. Insomma, è una cosa molto interessante, è una cosa positiva. Io credo che il messaggio fondamentale sia appunto quello di rendersi conto del valore della vita. In un momento in cui non si sta dando valore anche al passato, a quello che una persona più grande di te può continuare a trasmetterti. Ecco appunto anche la metafora dell'orologio. E' qualcosa che non si rompe, i valori non si rompono, anzi sono lucenti. Se il pubblico tornando a casa dovesse farsi una domanda, quale sarebbe secondo te, ripensando allo spettacolo? Siamo sicuri che vogliamo rottamare questo mondo con le persone che ci sono state prima di noi. Noi siamo sicuri che vogliamo continuare su questa dilagante voglia di bruciare tutto quello che abbiamo davanti. Forse è meglio mantenere la memoria e tutte le fasi della vita, non solo quelle giovani che possono dare qualcosa di materiale alla società, ma soprattutto anche quelle più nella seconda fase della vita, più nell'autunno della vita, che invece può portare tantissima esperienza. La metafora per noi, che siamo due attori più giovani, di lavorare con Giampiero che è un decano del teatro, è quello che rubiamo ogni momento possibile dalla sua esperienza, perché ogni minuto che passiamo insieme sul palcoscenico è una lezione di teatro per noi. Quindi anche nella vita bisogna avere lo stesso atteggiamento. Perché la società che viene dipinta da Matheson e poi riadattata appunto in questo spettacolo è quella di una società che non accetta tempi morti, una società che non accetta la vecchiaia, un po' molto simile a quella di adesso, dove le persone si rifanno il look, sono fuori nuove, però restano vecchie dentro. Allora forse il problema è che vecchiaia è un concetto un po' particolare e è diverso dalla maturità. Certo, è diverso anche dall'età, sono persone anziane che ancora hanno una freschezza, una curiosità di esplorare e di donare agli altri. E uno sti doni li deve prendere, perché c'ha il dovere di prenderli, se vuole andare avanti è come una staffetta, quando qualcosa, se tu aspetti che arriva giù, rimane il buio, invece se i fuochi d'artificio vanno uno dietro l'altro, e la diventa in gioco, non è che aspetti che quello muore e poi ne spari in altro, ma una notte nessuno li guarderebbe. Una domanda proprio per Caterina, tu ovviamente tutti i personaggi interpretano se stessi, hanno mantenuto i loro nomi, ma quanto c'è di vero in Caterina dello spettacolo molto cinica dentro di te? Dal personaggio in qualche modo, sicuramente di vero, c'è il fatto che posso avere quell'età e quindi posso interpretare una donna che ha dei figli e magari anzi li voglio e ci saranno. Infatti per me non è stato molto semplice affrontare un personaggio, c'è una donna comunque incinta, che dice delle cose tremende, che deve proprio inghiottire questo peso, no? E per essere una roccia per lui, perché so che lui soffre, però in realtà questa cosa torna su. E quindi non volevo dipingerlo solo in modo, ecco, semplicemente negativo, ma anzi ancora ci lavorerò, ecco, diciamo, per far uscire anche un po' di Caterina. Il finale è molto particolare, un po' una persona se lo aspettava, non un lieto fine purtroppo, però è veramente scioccante, cioè una persona tornando a casa, io penso che continuerà a pensare proprio a questo, al finale, una scelta voluta, forse così esasperata, no? Io credo che lui sia molto più vivo di noi due, anche nel momento della morte, infatti la metafora dell'orologio che è lucente, l'orologio riparato, il vecchio orologio che diventa lucente. E l'atto eroico che fa lui è che decide lui come morire, non può dirlo la società, e questo è scioccante. È scioccante che una persona debba essere messa con le spalle al muro, immaginando questo ipotetico futuro al quale l'autore si riferisce, lui immagina che la società va incontro a questo futuro, e l'atto eroico che fa lui è che dice io non faccio l'esame, perché chi è che deve decidere se posso ancora stare al mondo o no? Lo decido io, visto che a un certo punto si sente che questa agitazione ormai non ha più senso di esistere, lascia, molla gli ormeggi e decido io come fa. Addirittura anche per uno che muore fa anche un gesto rivoluzionario, perché butta via tutte quelle convenzioni che abbiamo noi sulla morte, quanto è bello, sembra che parla, sembra che parla, lui ne frega niente, ci pensa, ma perché ora sta così, con le mani così, i piedi, madonna che schifo, i morti con le calze, perché non ce l'ha le scarpe, se no sporcano, e allora ecco, questa è la cosa, muoio come voglio io, poi magari ecco c'è il momento che dice adesso tocca a me, però va insomma. Padrone fino alla fine del suo destino. Sì, anzi lo scopre, perché lui su sta cosa qui ci cresce. Quando va lì e si avvelena e si leva tutta la roba, è cresciuto rispetto a quello che faceva l'esame dietro a lui, è cresciuto fino all'ultimo, è andato avanti. Noi ringraziamo i protagonisti e il regista per questa perla, veramente che vi consigliamo di andare a vedere. Alla prossima per Radiofonica.com è tutto.